Era il miglior giocatore contro il quale ho giocato, Lothar Matthaus. Platini, Diego era capace di cose che nessun altro poteva eguagliare, Zdan le cose che ha fatto con un pallone da calcio, Maradona le ha fatte con un araccio. Carlo Stevez, Maradona per tutti gli argentini, è Dio. E lo sarà sempre. Con Maradona sulla palla, non sapevo dove finiva e dove è iniziata la palla, Ose Mourinho. Per la mia generazione, Maradona è il più grande giocatore che abbiamo visto e non penso che cambierà mai, Pep Guardiola. Con Maradona, non hai mai saputo esattamente quello che stava per raggiungere. Era brillante in ogni squadra con cui ha giocato, un improvvisatore nato. Emanuele Petit. C'è solo una parola per quest'uomo, Genio. Quello che era capace di fare con un pallone da calcio non era facile, era arte. Maradona è un Dio per il popolo di Napoli. Maradona ha cambiato la storia. In cento anni hanno sempre sofferto, lottando contro la retrocessione. Tuttavia in sette stagioni con lui abbiamo vinto due campionati, una Coppa UEFA, due Coppe d'Italia. Paolo Maldini. Maradona si è unito al Napoli quando erano giù alla categoria B, e senza l'aiuto di nessuno lo ha trasformato in un mostro, titolo vincente sia a livello nazionale, che europeo. Solo Maradona avrebbe potuto farlo. Il più grande giocatore che ho visto, molto più avanti di tutti, inclusi Platini, Rummenigge e il resto, Maradona è sopra. Franco Baresi, era pericoloso, ha sempre segnato contro di noi spesso, dovevamo essere molto ben organizzati, fare pressione su di lui, doppio, triplo, anche per limitare il suo talento. Perché se fosse uno contro uno, no, perdi. Quello che ha fatto con la palla, nessuno lo ha fatto. Nel prossimo video vedremo la seconda parte di giocatori e allenatori che parlano di Maradona.